Il tuo caso è più semplice. Il tuo caso è più semplice per la moto. Dovresti imparare da lui. Maturare un po'. Fermi! Siamo morti! Non abbiamo più niente! Ogni volta che ho combinato un casino, tu mi hai sempre fatto la ramanzina. Mi hai accolto quando nessuno mi voleva. Quando si sposerà e avrà una famiglia, pensi che vorrà ancora vedermi? Nessuno tiene a te quanto lui. No. 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 No.